possibile tu morirai tanti auguri a te tanti auguri che co bomba vieni che ci do la mamma e aspettate ragazzi che biscottino che si sta divertendo tanto no 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 preferisco il caccia alla mammut si in questa purtroppo se dobbiamo giocare ranked preferisco così e se devo giocare anche serie capito che cazzo fa 30 30 e mori manca l'ultimo da me capo che cazzo aveva questo ma pensa a questo che non si stare stare settano comprato la skin di rubius e niente no da bianchissimo si ma bloccato il corpo raga adesso sono diventati i cazzi miei lo sapete si sono tutti esponati esco meno male che io sono incredibilmente molto forte c'è veramente sono l'apoteosi di forte però questa bomba fa schifo tutto 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 che vuole lo spazio la prendi 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 si è troppo lontano per me gente qua ragazzi raccato skin e bianca qua davanti a me ragazzi ah no io l'ho fatto da video di spazio di noi si è dentro il tuo spuglio battuto uno dentro il cespuglio ha battuto ma non so se sono due dentro il cespuglio qua 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 29 bianco una terra arrivano altri da me ragazzi bianco morto ragazzi da me bianco terra il cespuglio ha veramente rotto il cazzo io ve lo voglio dire ahia è dolore dove c'è una macchinetta ragazzi da me da me da me diventa caliente calientissimo calientissimo mamma mia battuto ma io sono bianco morto 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 io non sto capendo niente adesso soffro col cecchino ragazzi cespuglio ragazzi solito cespuglio che mi ha rotto veramente i coglioni da me eh no insieme tu muori ecco tu frega tutto l'impulso fai come te pare da me ragazzi 59 bianco craccato questo qua craccato bene c'è un team intero là 73 bianco a terra colpicecco cazzo ma sono un hacker colpicecco avete? no no assassino medio tanta media c'è un full team qua sopra la cosa qua davanti a me c'è gente sì su casa è pieno ragazzi mamma mia attenzione sopra paura qua dietro l'albero ragazzi eh hanno un vantaggio enorme ma neanche così tanto eh io ho splash però eh li hanno messo pure i cespugli eh ma vedrai che prima o poi ok si sono tolti dal ground io ve lo dico eh non ci sono più andiamo ragazzi qua da solo da solo bianco fatto fatto tornate su tornate su tornate su prendete haig ce ne abbiamo tutti sotto eh craccato quello lì che ti ha rotto il culo sì ho visto eh non ho più un medico pochissimo che succede qua abbattuto medico io medico si arriva no si puscia si puscia si puscia si puscia qua quattro si puscia si puscia si puscia non è vero però l'ho preso perché non non mi ha dato hit ma non mi ha dato mai la hit di questo stronzo mai 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 c'è ancora il cost hit col cecco è uno schifo va bene va bene me lo accollo se avete colpi cecchino dite eh eh son pieno io io son pieno di bunkate nessuno colpi cecchino ragazzi no se volete a medi li ho medi se vuoi ne ho se vuoi me ne ho no io a posto sono pieno ma che ho qua un bunkate la lo prendo è pieno aspetti li qua ne prendo un altro a terra uno però lì ragazzi qua eh eh 26 ha battuto un altro godo cazzo godo proprio un botto destro al cespuglio 121 bravo ah c'è so albor io ho 5 colpi cecchino guys eh bene dietro stretto 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 eh vabbè non lo uso tanto magari per l'engine a me serve uno ma tieni biscotti cazzo ti ho fatto pure questo eh ragazzi però con così pochi colpi voglio di che cazzo ce fanno col cecchino porca proia ragazzi qua uno a terra ragazzi in là a sinistra colpi di cerco te li porto porto uno qua sotto riusci a prendere il 15 non so dove è bravo adesso ho un colpo prestito qua è uscito uno da 6 tienici merci 27 40 40 uno scudo buoncatile qua 121 buoncatile 121 questo a cecchino a cecchino quello ancora adesso 26 ragà questa se fuori te oh 51 ho 51 colpi cecchino ma 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 troppo di condividere condividi con gli amici no no ho un cameo passa adesso posso è pieno di bunkatili ragazzi occhio cecchini se volete colpi vieni sei sceso ora ora devi scendere 26 26 52 dentro cosa attenzione qua sono rompendo un muro abbattuto 80 bianco un altro sarebbe la pusher però non lo so sono tanto in alto 27 bianco di nuovo un altro va bene va bene con calma con calma con calma rompono qua rompono qua rompono qua è uno solo uno solo stanno facendo lo scudone qui dentro attenzione sotto di me sotto di me sotto di me l'hanno fatto l'hanno fatto l'hanno fatto finito ok ok va bene va bene ho altri cecchini se servono eh uno ho fatto qui e altri meti regà sono gonfio di meti gonfio abbattuto quel coglione a 104 vieni dobbiamo andare safe guys andiamo 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 seguitemi 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 occhio a sinistra nostra non sparate 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 con me con me con me con me Con me Con me Io sono col biciacco No Io ne ho Dietro Vieni Grazie Prego Ho ghost hit di nuovo Dio Cristo Ragazzi qua dietro di noi Ce n'è uno Ce n'è uno Due Penso che è qui Sì Non sono safe questi dietro ragazzi Mi è arrivata la pistolata Eh ma tanto penso sia morto Ok Me la collo Me la collo Me la collo Me la collo Buoni che i buntatili Buoni Buona posizione Occhio davanti a noi Attenzione ce n'è uno qui Sì sì Ma stanno due davanti a noi Uno dentro questo buntatile qua Questo Dovevo metterci qua sopra Secondo Ma torniamo Torniamo subito safe Forza 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 E vuole Spara spara Fa cazzo dura Sotto di noi Attenzione Non siamo safe eh Oh qua c'è Vabbè Qua c'eramo 29 29 Bianco 29 Qua sotto ragazzi Ultima sinistra Lascialo lascialo Ah hanno tanto abbattuto Sti cazzi Hanno tutti qua Io ho due buntatili eh Bella rega Così 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 occhio È da noi la safe Sì io purtroppo Cecchini non farò un cazzo Qui c'è Molto difficile Occhio sotto al buntatile Qua Sì sì sotto Vai ve li fate Arianna grande Bianca Io Arianna col gran Un colpo Bianca fatta Mamma Mamma Prima che cosa Però con il pompa A cozzio ragazzi Mamma ma siamo Non ho mai vinto così tanto Distruttivi È vero Ma guarda quante kill 6 4 5 5 20 kill Abbiamo fatto Ecco per esempio qua Non c'ha senso Che mi dai solamente 27 cioè qui non ha Minimamente senso Eh perché oro oro Diamanti